Musica Buon pomeriggio e benvenuti con l'informazione sportiva di Tele Molise in apertura calcio di Lega Pro il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della FIGC di anticipare la discussione in merito alla riammissione in Serie C del Campobasso fissata per il 25 agosto Lega Pro vicina allo slittamento del campionato in servizio Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della FIGC in particolare della Lega Pro di anticipare di qualche giorno l'udienza fissata e poi confermata il 25 agosto L'organo di terza serie rappresentato dal Presidente Ghirelli Subito dopo la conferma della data ha emesso un comunicato La Lega Pro nel rispetto della giustizia evidenzia che il rinvio del campionato causa un gravissimo danno economico e reputazionale all'organizzazione e a tutti i club di Serie C Di conseguenza dopo aver consultato a stretto giro il Consiglio direttivo saranno presi i provvedimenti in merito alla data d'inizio del campionato Un atto necessario e impossibile provvedere alla compilazione dei calendari a due giorni dell'avvio del campionato A questo punto le riflessioni sono due La prima è che la FIGC e la Lega Pro non mollano sulla vicenda a Campobasso Molti si aspettavano la compilazione dei gironi e dei calendari con l'inserimento di Teramo e Campobasso proprio per evitare lo slittamento del torneo Condizione che a questo punto non è da tenere in considerazione La seconda riflessione è rivolta ad una battaglia sicuramente inaspettata e che ancora non vede una risposta definitiva Tutto è fermo in attesa del 25 agosto data in cui il Consiglio di Stato si esprimerà in modo definitivo su una lunga estate vissuta nei tribunali prima sportivi e poi civili Certo l'organo di terza serie deve già prevedere il piano B perché in buona sostanza anche Ghirelli e compagni hanno commesso un errore grave compilare i gironi di serie C con l'ammissione di Teramo e Sassari Torres appena un'ora prima della sospensiva ordinata dal Consiglio di Stato Un autogol clamoroso Ormai le due ripescate sono dentro, non ci sono santi e in caso di ammissione del Campobasso e del Teramo o anche di una sola delle due bisognerà provvedere alla rimodulazione dei regolamenti Chiaro che un girone a 21 rispetto alle 20 previste non può avere la stessa disciplina sia per le retrocessioni sia per i playoff Insomma chi più ne ha più ne metta in questi due mesi estivi dove è successo veramente di tutto da casa nostra con il clamoroso errore della società sino alla Lega Pro per passare ad un giudizio l'ultimo del Consiglio di Stato che ha completamente rivisto quello del Tar Il Campobasso spera, i tifosi ora ci credono la prospettiva è cambiata notevolmente dopo le motivazioni scritte dal magistrato Luciano Barra Caracciolo Sono attesi i giorni di fuoco lo scontro assume dei connotati anche politici ed istituzionali certo, le parole del giudice sembrano mettere il Campobasso in una botte di ferro ma a questo punto possiamo davvero attendere di tutto In ultima analisi ci chiediamo perché ancora non parte il ritiro prestagionale della squadra con giocatori e staff tecnico le notizie che arrivano dal Consiglio di Stato sono confortanti e non capiamo davvero il perché la squadra già all'indomani della sospensiva non sia stata chiamata per gli allenamenti ci sono diversi tesserati una quindicina circa che sono le dipendenze del Campobasso tutti tranne i giocatori trasferiti regolarmente prima delle note vicende attendiamo novità a stretto giro con l'auspicio che al massimo lunedì si possa dare il via alla preparazione diversi tesserati sono in accordo di massima con altre società ma a questo punto per trasferirsi dovranno portare liquidi nelle casse del Campobasso rispetto alla possibilità di svincolarsi a parametro zero dopo la sentenza del TAR sempre se la società rosso-blu dovesse avallare il trasferimento Scendiamo nel torneo di quarta serie il Vasso Girardi dopo il test amichevole contro la Juve Stabia martedì andrà a Revisondoli per affrontare un'altra formazione di Lega Pro la neopromossa Cerignola intanto ha firmato Thomas Grandis argentino classe 1995 che vanta esperienze in Serie D con le maglie del Francavilla in Sinni e Virtus Matino in giallo-blu anche Antonio Fiori un esterno d'attacco classe 2003 calcio estivo in diretta a TV la finalissima del torneo Coste del Lago Libosano ieri l'ultimo atto del torneo di calcio a 5 ha visto trionfare supplementari BOAF su Tigre andata in archivio anche la settima edizione del torneo Coste del Lago Libosano con la finalissima tra Tigre e Bio AF Mica è stata proprio quest'ultima formazione da giudicarsi il torneo dopo una partita molto combattuta ed equilibrata decisa soltanto nel secondo tempo supplementare da bomber Umberto Caruso fresco di firma con il futsal Pescara in Serie A prima del calcio d'inizio l'organizzazione della manifestazione come sempre ha previsto un vero e proprio spettacolo con tantissime esibizioni musicali e lo spettacolo dei fuochi d'artificio molto emozionante il ricordo di Christian Mica Trotta ragazzo dal cuore grande che aveva sempre contribuito attivamente all'iniziativa del paese di Limosano compresa l'organizzazione del torneo Coste del Lago fischio d'inizio del subito vantaggio Tigre imbucata di Lorenzo Viglione per il capocannoniere del torneo Albino Fazio bravo a smarcarsi e battere Camarda con un destro incrociato BOF prova a riorganizzare le idee la risposta arriva con una punizione a due al limite dell'aria schema che porta al tiro Frank Pescolla ma Antonio Madonna in uscita è attento e salva i suoi tanto possesso palla per i bianco-azzurri ma passare è ancora Tigre calcio d'angolo battuto da Luca Tizzani Fabio Damiano anticipa tutti un tiro non irresistibile ma che sorprende Camarda ed è 2-0 per Iorage reazione rabbiosa di BOF con Caruso tacco illuminante per Pescolla che calcia di sinistro in corsa miracolo di Madonna che vede sbucare all'ultimo istante il pallone e devia in angolo i blu tornano in partita poco dopo punizione defilata di Pescolla che appoggia il rimorchio per Christian Passarelli per lui è un gioco da ragazzo appoggiare il punto del 2-1 Tigre ci prova ad allungare di nuovo palla geniale di Albino Fazio per Tizzani il giocatore originario di Oratino sbaglia il primo controllo permettendo a Camarda di chiudere lo specchio sul finale del primo tempo arriva il pareggio Pescolla viene dimenticato sul secondo palo e con un sinistro chirurgico batte Madonna squadra a riposo sul 2-2 si riparte con un cambio tra le file di BOF e Mica tra i pali esce Camarda e subentra il mago Francesco Dallauro che occasione per Tigre con Fazio che batte velocemente un fallo laterale Damiano di testa colpisce a pochi passi dalla linea di porta ma non c'entra il bersaglio grande gol fallito, gol subito Dallauro rilancia in avanti con le mani Damiano non è preciso con il disimpegno ne approfitta Pescolla che con un lob morbidissimo batte Madonna ed è 3-2 per BOF a questo punto i blu si difendono con ordine serve un episodio che arriva con l'Eurogoal di Simone Petrella che spossa la palla in un fazzoletto e spacca l'incrocio dei pali sul finale del secondo tempo grande occasione per BOF con Pescolla ben servito da Caruso ma Madonna è attento e garantisce i supplementari ai suoi rende l'equilibrio e si va ai tempi extra nel primo tempo arriva il gol che decide il match azione di forza di Umberto Caruso che dopo una serie di rimpalli trova la zampata giusta e porta avanti i suoi nell'occasione grandi proteste di Tigre per un possibile fallo su Damiano nel secondo tempo supplementare Tigre prova il tutto per tutto doppia occasione con Fazio prima e Petrella poi ma Dallauro è super ultima occasione per allungare la partita ai rigori arriva sempre con Albino Fazio tiro incrociato di sinistro ma Dallauro è attentissimo con questa occasione arriva il triplice fischio finale e via i festeggiamenti per BOF e Mica una finale dai grandi contenuti agonistici e tecnici alla fine le premiazioni con tutto lo staff del torneo Coste del Lago Limosano che si è dichiarato super soddisfatta dell'ottima riuscita della manifestazione dando appuntamento al prossimo anno per la palla a volo secondo volto nuovo in casa Energy Time Spike Devils Campobasso il nuovo palleggiatore è Antonio Del Fra abruzzese classe 99 lo scorso anno ha dibuttato in Serie A2 con l'ortona Del Fra si aggiunge al centrale Carmelo Muscarà e al libero riconfermato Marco Santucci calcio a 5 il 22 agosto via la preparazione del Cus Molise che si appresta a vivere la quarta stagione consecutiva in A2 ai nostri microfoni il tecnico con il quale abbiamo parlato anche del settore giovanile Marco Sanginario Cus Molise ancora campionato di calcio a 5 di Serie A2 una conferma per il Molise una conferma anche per te diciamo in panchina stai ultimando la rosa a tua disposizione meno di un mese e parte l'ennesima stagione si partiamo il 22 di agosto è il quarto anno di A2 un bel successo da parte di tutti perché non è non è semplice quest'anno con tante tante modifiche a partire dalla regola dei formati a cui ci siamo adeguati dando più spazio alla gente del posto qualche acquisto molisano in più rispetto alla rosa dello scorso anno e come è sempre lo zoccolo duro confermato infatti quest'anno quest'estate diciamo si è dovuto fare i conti con questa riforma del campionato che vuole dare spazio diciamo un po' più agli italiani però con la possibilità per l'appunto di avere in rosa in questo caso per voi tre stranieri si è ripartito tra l'altro anche da Matteo Barrichello che è un simbolo comunque per il Cusso Molise un molisano acquisito ormai beh sì sicuramente i ragazzi stanno bene quindi loro gli piace restare a campo basso altrimenti non sarebbe così tu giustamente nomini Barrichello ma possiamo nominare anche Jonathan che è al quarto anno Vinicius che è al terzo Lucas che è al secondo nonostante ci siano state tante sirene di mercato perché è un ragazzo che è finito il nazionale e quindi diciamo dove si sta bene ci si torna ci si torna sempre loro stanno veramente veramente bene a campo basso e credo che anche quest'anno riusciremo a ben figurare in un campionato che si appresta un po' anomalo perché come tutte tutte le novità non si sa che tipo di squadre si fanno affrontare che tipi di organici perché c'è stata veramente una rivoluzione che potrebbe portarci anche dei dei vantaggi se la sappiamo cavalcare questa riforma però onestamente non è semplice ha anticipato la mia prossima domanda quella delle soddisfazioni dello scorso anno che sono sì con la prima squadra per il piazzamento a fine stagione la convocazione di Lucas in nazionale i buoni risultati però direi anche dell'Under 19 beh sì anche quest'anno ci puntiamo è una è una una categoria su cui ci puntiamo tanto quest'anno abbiamo fatto anche degli acquisti mirati per l'Under 19 abbiamo Bruno Piscitelli che è una delle migliori espressioni del calcio a 5 regionale che è il portiere che farà anche ovviamente la prima squadra poi ci sono altri ragazzi che si avvicineranno abbiamo il fuori quota che è Natan che giocherà anche in prima squadra quest'anno l'abbiamo tesserato è una categoria su cui ci puntiamo tantissimo anche perché ovviamente i giovani sono il futuro non è una frase fatta ma è chiaro che i giovani che oggi fanno l'Under 19 saranno i giovani che poi indosseranno la maglietta della prima squadra diciamo che tutto sommato siamo soddisfatti come ogni anno abbiamo fatto gli acquisti abbiamo costruito la squadra avendo un budget alla mano non facendo il passo più lungo è la politica che poi ci consente di proseguire negli anni e dare un programma a lunga gettata complessivamente perché altrimenti non sarebbe possibile calcio regionale lunedì a partire dalle 20 e 30 a Ripalimosani è in programma una serata musicale a seguire verrà presentata in piazza San Michele la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di promozione in eccellenza il Venafra ha affidato la guida tecnica ad Alfonso Camorani in passato centrocampista del Campobasso hanno firmato il centrocampista Orlando Paolella e l'attaccante Cristian Montaperto dopo tre stagioni con la divisa dell'Aurora Ururi il portiere Silvestri è proiettato ad una nuova avventura in Puglia noi l'abbiamo avvicinato Giovanni Silvestri nuovo portiere dell'SD San Marco squadra di eccellenza pugliese della provincia di Foggia lasci l'Ururi dopo tre anni allora con quali stimoli ti appresti a vivere questa nuova avventura beh uno stimolo sicuramente per fare meglio comunque cambio campionato andiamo in Puglia quindi diciamo che un po' il livello si è alzato il San Marco l'anno scorso ha affaticato un po' però quest'anno insomma deve essere l'anno della rivalza quindi voglio mettere a disposizione tutto me stesso per comunque guadagnare un obiettivo che è quello di soddisfare sia il pubblico che la società ecco che cosa ti porti dietro dopo questi tre anni ad Ururi nei quali sono successe tante cose fra cui la salita nel campionato di eccellenza direi che il tuo bilancio può essere positivo sì 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 senz'altro non è stato facile devo ammettere comunque salutare gli amici di Ururi perché in questi tre anni comunque oltre che dei giocatori fantastici e uno staff fantastico ho trovato comunque dei grandi amici che mi hanno supportato come io ho supportato loro quindi si crea comunque un discorso di famiglia all'interno di uno spogliatoio che è comunque importante ed è quello che mi porto più nel cuore ecco abbiamo intervistato tanti addetti ai lavori c'è capitato di intervistare tanti addetti ai lavori dei campionati regionali pugliesi sicuramente assomigliano molto per dire anche ad una serie D se vogliamo parlavi tu stesso di un livello che ti aspetti più elevato rispetto all'eccellenza Molise sì sì ripeto questa è la prima esperienza che farò in un campionato pugliese però come appunto hai detto anche tu insomma si sa che comunque è un livello molto più alto quindi voglio affrontare questa sfida preparato e pronto insomma per qualsiasi cosa Podismo domani a Porto Canone in programma il sesto raduno l'Art & Post prevista la gara non competitiva di 6 km e una camminata di 3 km aperta a tutti vediamo domenica 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 7 agosto nuova edizione dell'Art & Post una gara podistica ma anche un momento di condivisione e convivialità sì certo dopo due anni di fermo per varie necessitudini per il covid torniamo con la sesta edizione dell'Art & Post abbiamo preparato al meglio tutto quello che potevamo fare penso che l'abbiamo fatto non c'è altro che aspettare più concorrenti possibili atleti da ogni regione dalle Marche dal Lazio dalla vicina Puglia gli amici di Termoli e dall'Abruzzo quindi aspettiamo con ansia che arriva domenica un evento dedicato sia agli atleti che alle famiglie sì anche alle famiglie proprio perché diciamo che proprio il paese nella stragrande maggioranza riesce a partecipare a questo evento con la corsa non competitiva e con la camminata come anche negli altri anni ci aspettiamo che quest'anno una grande risposta dei nostri compaesani che hanno ravvivato il paese veramente in un modo esemplare in tutti gli altri anni le scorse edizioni avete pensato a ogni dettaglio dalla madrina che sarà Matilde Brandi all'intrattenimento musicale serale una giornata di sport e di festa sì in effetti Matilde Brandi dice il personaggio di spicco che abbiamo invitato per l'evento e nel momento diciamo della festa c'è Civico 87 il gruppo locale con che come ogni anno anche quest'anno abbiamo deciso di chiamare un gruppo locale per l'intrattenimento serale fino fino alla notte ricordiamo allora quando e come saranno scaglionate le partenze per le diverse distanze e categorie le partenze ci sono prima i più piccolini i pulcini che faranno una distanza di circa 100 metri poi ci saranno gli esordienti toccherà gli esordienti che faranno circa 200 metri poi ci sono le categorie più grandi quindi parliamo dei ragazzi che faranno circa 1000 metri e poi ci sono i cadetti che faranno 1600 metri poi ci sarà alle 19 la partenza la partenza dall'arte post dove si concluderà circa le ore 20 ci sono tre tipologie di percorso una è la competitiva che sono circa 9 km poi c'è la non competitiva che sono 6 km poi c'è la camminata e il dog run che praticamente si può anche venire con l'amico fedele a 4 zambe quindi sono circa 3 km però diciamo che è un po' calcolato e più o meno sul percorso arriveranno poi alla fine tutti insieme circa le ore 20 Calcio Balilla la prossima settimana terza tappa del torneo itinerante organizzato da Trivisonno Biliardi e Giochi venerdì prossimo appuntamento a Monaciglioni la chiusura delle iscrizioni è fissata per giovedì alle ore 18 motociclismo è rientrata la carovana dei Vespisti Molisani partiti il 27 giugno da Campobasso con destinazione Caponord passando per il Portogallo dove era in programma una manifestazione europea vestistica vediamo viaggio melone di ritorno da un lungo viaggio ci siamo visti alla partenza ci ritroviamo all'arrivo da Campobasso a Caponord con la Vespa allora che esperienza è stata? è stata una lunga e bella esperienza durata 40 giorni ovviamente questo viaggio mi ha coinvolto è fisicamente e psicologicamente in una forma molto determinante Caponord passando dall'Eurovespa a Ghimaraes in Portogallo abbiamo attraversato ben 20 stati dai più grandi quali possono essere Francia, Spagna Germania e Polonia i più piccoli quali Lussemburgo le tre Repubbliche Baltiche il totale di 15.000 chilometri per avere un'idea della complessità del viaggio abbiamo consumato circa 600 litri di benzina Caponord è una meta per tanti è una meta comunque ambita ma allo stesso tempo difficile perché è tanto tanto lontano un viaggio sicuramente interessante ma anche difficile dal punto di vista fisico molto impegnativo sicuramente anche perché noi abbiamo attraversato le condizioni climatiche più disparate dai 40 gradi del Portogallo fino al ritorno in Croazia e ovviamente dalla Danimarca in su temperature più basse a Caponord circa 8-9 gradi a volte anche 5 con piogge e nebbia dove tra l'altro si procedeva più a vista che per intuito che a vista interessante perché questo viaggio è stato all'insegna della solidarietà perché avevo con me una mascotte del centro diurno Peter Pan Palmieri che i ragazzi hanno affidato mi hanno affidato perché loro potessero seguire virtualmente questo viaggio insieme a me il viaggio l'ho realizzato l'ho fatto insieme a altri due compagni sempre in Vespa dei mezzi di serie tre Vespe sei giorni che per la prima volta arrivano fino a Caponord un mezzo del tutto normale quindi questa cosa è fattibile i due compagni sono uno di Montesilvano Giuseppe Articondo un altro italiano lavora in Belgio Paolo Daniele ecco affrontare tanti chilometri comporta anche una preparazione fisica prima della partenza fisica sicuramente per superare voglio dire le difficoltà tanti giorni tanti chilometri sempre la stessa postura può portare delle problematiche a livello fisico ma soprattutto anche psicologico perché stare fuori di casa con delle avversità delle problematiche che ti si possono presentare può portare anche a uno sconforto e da un certo quando arrivi a un certo punto di vista devi essere bello solito perché se ti viene uno sconforto dietro non puoi andare magari manco avanti ecco partire ed arrivare a Caponord forse è il massimo partendo da questo viaggio quali i prossimi obiettivi quali le prossime mete che vi siete prefissi o che avete in mente di provare a raggiungere sicuramente noi siamo come gruppo di Vespisti qui nel Molise siamo avessi a fare questi eventi internazionali questo sicuramente ha superato noi stessi le proposte per il futuro saranno sicuramente l'anno prossimo c'è in Svizzera un raduno internazionale quindi contiamo di parteciparvi lo sport che promuove e valorizza il territorio molisano il segretario di sport e salute molise ha elogiato l'impegno del comitato regionale della FIPAV promotrice di tre eventi nazionali sentiamolo angelo campofredano sport e salute molise al fianco della FIPAV anche per questo appuntamento questa volta sulla costa beach volley tappa gold del campionato italiano un evento che ha richiamato in Molise veramente il top degli atleti italiani e non solo perché ci sono stati anche degli stranieri sì noi siamo contentissimi di essere potuti intervenire garantendo il servizio dei medici sportivi su tutti i campi gara lo abbiamo già fatto a Campobasso con un'altra importantissima manifestazione ma questa mi è rimasta nel cuore sono contentissimo di vedere che Termoli e non solo ha risposto benissimo ed è stato veramente un piacere vedere tutto il pubblico partecipare a questi eventi il livello è altissimo e mi auguro che sia solo un inizio quindi che anche in futuro si possa continuare in questa direzione Sport e Salute che per l'appunto è accanto alle federazioni accanto però anche ai comuni dobbiamo dirlo perché sono stati lanciati tra l'altro anche diversi bandi per diciamo recuperare gli spazi sportivi sì ci sono diverse iniziative vanno dal mondo scuola ai comuni alle amministrazioni comunali del Molise il progetto Sport e Periferie ha portato notevoli risorse ci sono sei comuni che hanno potuto risistemare quindi recuperare degli spazi da dedicare allo sport altrettanto abbiamo fatto nelle scuole nelle scuole primarie in tre scuole primarie Baranello San Giacomo degli Schiavoni e Miranda abbiamo recuperato e allestito degli spazi chiamiamoli non convenzionali e altrettanto stiamo facendo mettendo a disposizione delle federazioni e delle società sportive notevoli risorse per l'attività sportiva di base è appena stato pubblicato un bando spazi civici disponibile sul sito di Sport e Salute mette a disposizione delle società sportive ben fino a 100.000 euro per due anni di attività cerchiamo soprattutto in questo periodo di essere al fianco sia delle società sportive che delle federazioni sportive sperando che presto si possa tornare alla normalità per gli appuntamenti lunedì pomeriggio alle ore 17 presso la chiesa di Santa Cristina Sepino è in programma la presentazione del libro Don Nicola Vitone il maestro di Sepino previsto ingresso libero sempre lunedì il comune di Trivento consegnerà Luigi Stinziani una targa per i suoi meriti sportivi e sociali in una delle puntate degli amici di Domenica Sport abbiamo avuto modo di conoscere e raccontare la vita di Luigi Stinziani pugile e poi scorta di autorità importanti la cerimonia avrà inizio alle ore 21 la consegna è prevista un'ora più tardi bene questa era l'ultima notizia del nostro TG Sport grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata grazie a tutti